Calcio di Serie D attesa per il derby Avezzano-L'Aquila, turni interni per Teramo e Chieti, notaresco di scena Fossombrone. Il basket Roseto ospita Sansevero per confermare il primato, Chieti affronta la Luis Roma. Calcio a 5 in Serie B, finale Beffardo per la Lisciani-Teramo-Recanati-Espugna-Il-Palacqua-Viva 3-2. Buonasera e benvenuti a questa seconda edizione DJ Sport. Apriamo il nostro telegiornale con il calcio di Serie D con l'aiuto della grafica. Andiamo a vedere il prossimo turno dando un'occhiata specifica agli incontri che avranno le squadre abruzzesi. Siamo giunti alla nona giornata. domani appunto tutto il programma completo. Ancona-Recanatese-Avezzano-L'Aquila-Castelfidardo-Atletico-Ascoli-Chieti-Termoli-Città-Disernia-San-Benedettese-Teramo-Sora-Forse-Impronese-Notaresco-Roma-City-Fermana-Vigor-Senigallia-Contro-Civitanovese. Abbiamo detto appunto, avete visto con il Teramo che ospita il Sora al Bonolis per proseguire nella striscia di risultati utili consecutivi. Un occhio particolare per la formazione ciociara che viene appunto dal cambio tecnico in panchina. Vediamo il servizio. Sette risultati utili consecutivi, 15 punti in classifica con conseguente primato in coabitazione con Samb, Fossombrone, Chieti e l'Aquila. È un momento più che positivo per il Teramo che come sottolineato da mister Marco Pomante deve mantenere alta la concentrazione e la giusta tensione. L'entusiasmo è quello giusto, è anche giusto che ci sia un entusiasmo del genere, però sempre come detto tu, con la giusta concentrazione. È normale che i ragazzi a punto di vista fisico sono leggermente stanchi, ma penso che tutte le squadre in questo girone. Quindi è una cosa normale, però questo entusiasmo ti aiuta a recuperare meglio, però lo dobbiamo sempre sfruttare per non sottovalutare sicuramente il Sora che è una squadra ostica da infrontare. Prossimo avversario il Sora, reduce da una sconfitta rocambolesca in casa contro Lisernia che costata la panchina Stefano Campolo, sostituito da Massimiliano Schettino. La squadra ciociara è giovane e soprattutto camaleontica, non dando punti di riferimento ma adattandosi tatticamente di volta in volta, avversario quindi da tenere d'occhio. Quando c'è questo cambio, quando l'allenatore scatta sempre quella molla mentale da parte dei ragazzi, però noi al di là di tutto non dobbiamo pensare a sottovalutare assolutamente il Sora. Qua ogni partita in questo girone te la devi giocare, tu troviamo da 5 minuti, ogni domenica c'è sempre qualche risultato a sorpresa, ma perché è la qualità di tutte le squadre che è alta. Il gruppo in casa Biancorossa è sempre più unito con tutti i giocatori che accettano le naturali gerarchie e danno il loro importante contributo, in modo particolare le cosiddette seconde linee. Questo è un gruppo di ragazzi eccezionali che ci seguono, me lo staff, dal primo giorno all'allenamento, credono in quello che facciamo e lo dimostrano poi in campo. Si fanno trovare tutti quanti pronti, al di là del minutaggio anche gente, anche lo stesso Michele D'Amore che è entrato mercoledì a 7 minuti, però diciamo ha fatto l'assist per l'occasione da gol per Gonzalo, è entrato alla grande. Quindi tutti quanti i ragazzi si sentono importanti, è normale che non sono frasi fatte, ci sono delle gerarchie, è anche giusto che un allenatore ha la formazione ideale sua in mente, però l'importante è che chi poi è scende in campo si fa trovare veramente al 100% a punto di vista mentale. Sull'undici titolare qualche piccolo dubbio per Pomante. Più che altro devo vedere la condizione domani come recuperano i ragazzi, c'è qualcuno che ancora non è al 100% ma penso che sia una cosa normale. Campionato di eccellenza, vediamo con l'aiuto della grafica il programma completo con tutte le partite che anche qui si giocheranno nella giornata di domani che seguiremo in diretta, Castelnuovo, Folgore, Delfino, Curi, Pescara, questo di fatto è il big match, Celano, Torrese, poi Giulianova, Sambuceto, Lanciano, Capistrello, Montori, 88, Penne, Mosciano, Provasto, Pontevomano, San Salvo, Renato Curi, Angolana, Ovidiana, Sulmona, altro big match, Dirtus, Cupello contro lo Spoltore. Cambiamo argomento, passiamo al basket, anche qui con l'aiuto della grafica vediamo il programma per quanto riguarda il girone B del campionato di Serie B nazionale, tenendo d'occhio nello specifico le formazioni abruzzesi, questo appunto il programma completo, ci interessano nello specifico i match tra Chieti e Luis Roma e poi la capolista Roseto che riceve al Palamaggetti Sansevero per confermarsi solitaria in vetta alla classifica. Andiamo adesso invece al calcio a 5 di Serie B, si è giocata la terza giornata, la partita di terza giornata al Palacqua Viva di Teramo, finale Beffardo per l'Alicciani Teramo con appunto gli ospiti che vincono con il risultato di 3 a 2, ma andiamo ad ascoltare le interviste realizzate da Fabio Talamonti. Marino, un finale amaro che premia Re Canati, l'avevate rimessa anche bene la partita sul 2 a 2 con due grandi gol di compagnoni prima e Di Blasio poi quella palla persa nel finale ha premiato i marchigiani. Sì, abbiamo preso gol a 24 secondi dalla fine, quindi è impossibile non restare con l'amaro in bocca perché sì, siamo andati sotto di due reti, 2 a 0, però abbiamo sempre tenuto la partita in equilibrio poi con due grandi gol, come hai detto tu, prima di Fabiano e poi di Gianmarco l'avevamo recuperata. sembrava che l'inerzia della partita fosse cambiata dopo il pareggio e magari poteva anche scapparci una vittoria invece poi con questa ripartenza brutale nel finale abbiamo preso il 3 a 2, peccato. Secondo tempo però decisamente è migliorare i scena. Sì, il secondo tempo siamo stati in campo più ordinati, più incisivi, più attenti sia in fase difensiva che in fase offensiva e si è visto perché ci siamo resi pericolosi diverse volte. Alla fine abbiamo rischiato, sì, sempre in ripartenza, però ci sta comunque loro una squadra che è venuta qui a Teramo dimostrando tutto il valore che ha. Niente, dispiace, dispiace perché è una partita che sembrava potesse girare a nostro favore e invece torniamo a casa senza punti. Allora intanto possiamo dire che è una partita in cui è successo praticamente di tutto. voi bravi ad andare 2 a 0, anche a controllare la partita, sciupando poi alcune occasioni e sarà brava l'Aliciani a rimetterla e poi nel finale una palla persa in ripartenza va premiato. Dovevo dire che abbiamo trovato una buonissima squadra qui. Noi volevamo fare una partita un po' più, diciamo, più intelligente. Ma tu sai che in queste partite così difficili non è facile gestire la parte emozionale della squadra. Però la cosa importante è che siamo riusciti a fare tre punti che per noi è quello che conta adesso. Quello che dico sempre a loro, se no dobbiamo cercare di fare più punti possibili adesso. Indipendentemente della prestazione, sia buona sia un po' meno buona. Io devo solo ringraziare a loro che siamo riusciti a fare questi tre punti che è molto importante. E continuiamo a lavorare. Abbiamo lavorato tanto e dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro, fidare di quello che stiamo facendo. Sono sicuro che faremo delle belle prestazioni. Bene, è proprio tutto per questa edizione di J-Sport. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con i programmi di Super J. Grazie a tutti.